Altro che Latin Cruise 2016, io non lo posso chiamare Boom Boom Latin Cruise Eh, è un evento che si fa sentire, ci stiamo abbastanza divertendo direi, no? Siamo tantissimi, sì sì no, siamo tantissimi, siamo contenti, la gente si diverte, è veramente Boom No, ma le persone poi sono plasmate bene, cioè si divertono Dopo giriamo la telecamera da quella parte e così li incontriamo, tra un po' li incontriamo un pochino tutti Allora, io non voglio fare domande serie, voglio dirvi, questa sera cosa facciamo? Spacchiamo tutto che è la penultima sera? Spacchiamo, certo che spacchiamo Bisogna ballare tanto? Assolutamente sì, ci siamo già dentro, ci siamo già dentro E se di qualcosa in più bisogna che tu mi dica, anzi che voi mi diciate Facciamo così, facciamo un pochino le persone serie e chiediamo a Monique e a Andrea Cos'è questo international baciata Antiky Jomba Eve? Il Milano Baciata Festival è un evento low cost, costa solo 45 euro, ha il costo di una lezione È il 28 e il 29 maggio all'Inviate, Monza Brianza, vi aspettiamo E niente, è bellissimo, ci sono tanti professionisti e tante lezioni di baciata e chiedi Jomba Ma se i presupposti sono questi sarà un eventone, tu che pensi Andrea? Io ho avuto il piacere di partecipare l'anno scorso e per gli appassionati di baciata lo consiglio Perché è un evento che ne vale la pena viverlo per tante diverse situazioni A partire dal costo, a partire dalle persone che insegnano, vale la pena viverlo Quindi lo consiglio a tutte le persone che ne sono interessate e sono appassionati di baciata Questa è la penultima serata, noi questa sera dobbiamo divertirci ma domani sarà che è l'ultima I fuochi d'artipigio Ok, allora facciamo una... Evviva il Latin Cruise Evviva il Latin Cruise No ma più forte, almeno tre, uno, due, tre Evviva il Latin Cruise Ok me la son persa Allora rifacciamo Un, due, tre Evviva il Latin Cruise Un, due, tre